Ragazzi, in presa dei mille, quali saranno i ritorni? In questo video qui vi faccio vedere una scaletta per farvi vedere i ritorni nei prossimi sei anni in base a quello che abbiamo calcolato in generale. Innanzitutto partiremo col calcolo che abbiamo fatto per una casa media, che potrebbe essere la media, ci potrebbero essere case migliori, case peggiori, e poi dopo passeremo alla scaletta. È un file Excel che abbiamo fatto in modo manuale per renderlo visuale, visivo, così capite quello che succede e appunto l'abbiamo semplificato il più possibile. È un mix tra la casa che guadagna, ma anche gli investimenti e il profitto che continuiamo a reinvestire e ci permette di crescere ulteriormente. Record, eccoci qua. Nell'ultimo video dove vi ho fatto vedere come analizzo le case in America per considerare una buona casa, questo qui era il file che abbiamo utilizzato, eccolo qua, abbiamo visto che la casa che abbiamo analizzato l'altra volta, che era una casa da 99.000 comprata a cash a sconto a 90.000, ci avrebbe reso il 10.59%. Quindi questi sono numeri buoni, numeri che ci piacciono. Il calcolo che abbiamo fatto sui 6 anni è un po' più conservativo, dall'8 al 9%, perché? Perché è meglio essere conservativi e fare di più che promettere troppo e poi essere perennemente scazzati e incazzati quando non vedi quei numeri. Addirittura anche 7% in alcuni casi. Il calcolo che vedrete qua è il calcolo al 9%. Cosa abbiamo fatto qui con i calcoli? Innanzitutto una scaletta. Il concetto è che l'impresa di mille, avendo mille persone che investono 100 euro a testa, generalmente magari metteremo più insieme, meno insieme, il target era 100 euro a testa, abbiamo più o meno 100-110 mila dollari di liquidità mensile per acquistare case. Cosa significa questo? Che sul mercato che guardo io in America, generalmente saremo in grado di comprare una casa al mese con quell'investimento mensile che ci entra e possiamo utilizzare per comprare case. Quindi, messo su file Excel, come qui vedete, a sinistra abbiamo ogni singolo mese che passa, mese 1, mese 2, mese 3, mese 4 e ogni mese abbiamo 100 mila. Qui, questa scaletta che vedete, rappresenta, ogni colonna rappresenta una casa che compriamo e mettiamo a rendita. Se l'investimento è di 6 anni e noi mettiamo 100 euro al mese, significa che abbiamo 6 anni per 12, 72 mesi. Cosa significa questo? Che la prima colonna è quella che inizia più in alto perché la prima casa la compriamo il mese 1 e poi abbiamo 72 mensilità di affitti che ci rendono. Quindi, nella prima colonna vedrete 72 numeri, nella seconda colonna vedrete 71, nella terza vedrete 70. Perché? Perché ogni mese che passa è un mese in meno per arrivare a quei 6 anni di investimento per cui quella casa può essere affittata. Comprando la secondo mese, avendo 6 anni di investimento, quindi 72 mesi, nel secondo mese, il primo mese è già passato, quindi abbiamo soltanto 71 mesi. E, dopodiché, questi affitti si accumulano e creano profitto. Quel profitto, arrivando sempre a quel target di 100.000, arrivati a quei 100.000 ci permette di aggiungere un'altra casa. E come abbiamo fatto questo in modo, diciamo, visivo, lo vedete nel prossimo file. Ogni riga blu rappresenta un mese dove arriviamo a quel target di 100.000 di profitto che possiamo utilizzare per rinvestirlo in altre case. Un'altra cosa che noterete dal, diciamo, file questo originale è che ogni mese l'affitto continua a crescere. Perché abbiamo considerato questo? Questa crescita è l'inflazione. Praticamente ogni anno in America noi abbiamo un'inflazione degli affitti tra il 2 e il 3-4%. Tra l'altro negli ultimi due anni avevamo un'inflazione annuale del 6-8% degli affitti. Tant'è che io, che già investo in case, ho visto un apprezzamento delle mie case al di sopra della media, ho fatto un bordello di soldi. Solo questo mese ho fatto 50.000 euro di apprezzamento case perché il mercato è salito, più gli affitti che l'anno prossimo posso aumentare tranquillamente seguendo il mercato. Quindi, come vedete, ogni mese questi numeri continuano a aumentare. Il che significa che noi continueremo a fare sempre proprio i soldi. I numeri che vedete è l'affitto netto, non lordo. Capito? Quell'affitto lordo netto che abbiamo calcolato nel file iniziale che vi ho fatto vedere. Torniamo adesso qui per farvi vedere il rinvestimento. Quindi, ogni volta che vedete una fila blu, scusatemi, verde, sono dal tonico, non è vero, però vabbè, una fila verde rappresenta un mese dove noi arriviamo a quel ritorno complessivo, come vedete qua, di 104.000 dollari, 100.000 dollari che ci permette di raggiungere un'altra casa. Tant'è che la scaletta la vedete, ma ogni volta che c'è una fila verde, la scaletta si ferma per un'altra colonna, perché quella colonna rappresenta un'altra casa che compriamo col cash del profitto. Solo 72 mesi, ovviamente, mettendo 100.000 al mese, l'obiettivo è di comprare solo con l'investimento nostro 72 case. La domanda è quante case riusciamo ad aggiungerci soltanto con i profitti che iniziamo a generare. E come vedrete, vedrete anche l'effetto dell'interesse composto. L'interesse composto permette all'investimento di continuare a rinvestire anche i profitti e quindi crescere non in modo lineare, ma in modo esponenziale. E quindi noterete, man mano che i mesi continuano ad andare, riusciremo a comprare sempre più case in sempre meno tempo. Tant'è che la prima casa che compriremo col profitto ci vorranno 16 mesi. Dovremmo avere già 16 case funzionanti e quindi 16 affitti paralleli che entrano. E infatti qui la prima casa arriva. La seconda casa invece, dopo 23 mesi, quindi anziché aspettare 16 mesi, adesso ne aspettiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Molto meno perché abbiamo già 16 case operative più altre 7 che si aggiungono, più un'altra che abbiamo comprato con l'affitto, con i profitti che rendiamo. Dopodiché vedete che continuano sempre a diminuire i periodi tra i quali iniziamo a comprare case solo con profitti. Qui ne passano 4, qui ne passano 4 ma meno, qui ne passano sempre 4, qui adesso ne passano 3, qui ne passano 3, qui ne passano 2. Tant'è che arriviamo dai punti dove addirittura, verso la fine dei 6 anni, iniziamo a comprare una casa al mese con l'investimento nostro e una casa al mese con i profitti che entrano dall'azienda. L'obiettivo appunto è arrivare a un punto dove abbiamo abbastanza profitto, che l'azienda può continuare a crescere tranquillamente solo di profitto, non dico con una casa al mese soltanto da profitto ma quasi, e quindi continuare a crescere senza che noi aggiungiamo i nostri soldi nel investimento. Quante case in questo forecast al 9% riusciamo a comprare soltanto con i profitti, senza considerare le 72 case che compriamo con il nostro investimento, in questo calcolo, in questa scaletta manuale che abbiamo fatto, arriveremo intorno alle 22 case. Quindi se noi pianifichiamo di comprare 72 case in 72 mesi, in questo caso se ne aggiungeranno un altro 22 solo tramite i profitti, il che significa che arriveremo a un totale in 6 anni di intorno 94 case. Questo è il target, magari sarà più basso, magari sarà più alto. Abbiamo fatto al 9%, al 10% sarà più alto, al 7% sarà più basso. Però appunto questo è per mostrarvi in modo figurativo qual è il concetto dell'interesse composto e appunto la velocità che ha più aspetti e più l'interesse composto diventa potente, tant'è che se questo calcolo facciamo a 7-8 anni, non 6, questo effetto diventa ancora più potente. E appunto l'importanza di farlo per almeno 6 anni. Dopo 6 anni a 94 case che rendono ognuna 844 dollari, non arriveremo allo stesso quantitativo di 100.000 dollari al mese, ma arriveremo al numero sostanziale che ci permette sicuramente di continuare a crescere anche senza mettere soldi nostri. Generalmente, nell'impresa dei mille, vi ho detto che dopo 6 anni, l'idea era di tirare fuori almeno, diciamo, la metà del profitto in dividendi, così che la gente inizia a vedere già un po' di profitto, che non sarà altissimo, però perché vogliamo fare così? Perché vogliamo permettere all'azienda di continuare a crescere. Così che ogni mese, oltre a ricevere i tuoi dividendi, tu ricevi anche una crescita dei dividendi. Vedrai che i tuoi dividendi continuano a crescere perché investendo parte di quei profitti comunque di nuovo in azienda, tu riesci ad aggiungere altre case e con l'inflazione dell'affitto che vi ho fatto vedere, tra quello e le case che continuiamo ad aggiungere, aggiungiamo anche più profitto, di cui parte continuiamo a reinvestire e parte continuiamo a ridare in dividendi che diventano sempre più grandi. Questo ragazzi è il concetto generale che vogliamo instaurare, il principio che vogliamo instaurare nell'impresa dei mille e anche come funziona l'interesse composto. Se avete domande riguardo a questo lasciate un commento, farò anche calcoli più esatti, ma oggi volevo farvi vedere un'immagine, una cosa più figurativa, la scaletta, che secondo me ti spiega molto meglio come funziona questo concetto. Se vi piace quello che faccio lasciate il subscribe, se avete domande riguardo all'impresa dei mille, come questo video che finisce la playlist, che è stato ispirato dalle vostre domande, farò altri video e il prossimo video che vorrei fare probabilmente sarà sulla struttura societaria dell'azienda Impresa dei Mille. Grazie per la visione e ci vediamo alla prossima. Ciao!